L'ex presidente della Sicilia, Totò Cuffaro, ha ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo la completa riabilitazione. Lo ha reso noto lo stesso Cuffaro evidenziando l'estinzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Quindi l'ex governatore siciliano in futuro potrà ricandidarsi. Cuffaro è stato condannato nel 2011 a sette anni di reclusione per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia, ha dichiarato in una nota Totò Cuffaro, attuale commissario regionale della democrazia cristiana. So di aver commesso molti errori per i quali ho pagato un prezzo altissimo. Coltivo il diritto e credo anche il dovere, prosegue, di poter continuare a essere utile. Per questo mi sono speso e mi sto spendendo per affermare un partito di ideali e di valori, la democrazia cristiana. Amo questa terra e amo la politica. Un partito che voglio che sia nuovo, giovane e donna. Un partito dal cuore antico che abbia la voglia e la forza di fare un assalto alla disumanità e all'indifferenza. Poi, nonostante la decisione del Tribunale di Sorveglianza gli consentirà di candidarsi, l'ex governatore sembra tuttavia escludere questa possibilità. Confermo con determinazione che il mio tempo per le candidature è finito. Potrò tornare a fare il medico. Impegnerò tutte le mie forze affinché la democrazia cristiana, oggi una realtà in Sicilia, possa diventare anche una realtà nel paese. E questo è il mio sogno e chiederò a Don Luigi Sturzo che mi aiuti affinché diventi realtà. E se riusciamo a far rinascere l'ADC, chissà che non sia il miracolo per farlo diventare finalmente santo, ha concluso l'ex governatore Totò Cuffaro.